E' stata l'Arena Eden di Arezzo ad ospitare la prima nazionale dello spettacolo Breve Apologia del Causa per eccesso di testosterone nelle strade di Manhattan di Santiago Sanguinetti, un appuntamento di Smart Festival. Il testo parla di questo gruppo di persone che vuole cambiare il mondo e allora per cambiare il mondo ad un certo punto a loro viene in mente che l'unico modo sia utilizzare il testosterone, far diventare tutto il mondo dei gorilla pieni di testosterone per far collassare il sistema capitalista. Cerca violenza generalizzata a fine del mondo. Ma lo vedi? Sei un allarmista Richard. Ma quello che sta succedendo? Sì, ok Google, violenza generalizzata a fine del mondo. C'è un allarme rossa internazionale per un virus nelle lattine di cocchia colla che unisce il DNA dei gorilla Silver Beccal Testosterone. In scena Eleonora Angioletti, Giorgio Castagna, Riccardo Goretti, Daniele Marmi per la regia di Simone Luglio e l'assistenza alla regia e traduzione di Teresa Vila. È uno spettacolo quasi sulla solitudine anche perché loro sono un gruppo ma in realtà sono delle entità sole che non riescono a comunicare tra di loro e quindi ancora più difficilmente riusciranno a comunicare con il resto del mondo. Quindi pensare che queste persone inadeguate all'atto della rivoluzione possano organizzare un atto così importante rivoluzionario è un po' difficile da credere. Ma questo l'autore ce lo fa capire dalle prime battute. Però è proprio bello come poi si sviluppa, come questa apertura di scatole, di altre scatole, di altre scatole crea delle situazioni veramente comiche che ci portano però a una realtà cruda, all'essere umano in difficoltà nel poter cambiare realmente la società.